Ciao a tutti caciotti e benvenuti in questo nuovissimo ed ultimissimo, si spera, video della SkyBlockLight insieme a Stepney e al suo microfono che fa casino Detto questo, fa un botto di casino ragazzi, sembra un video di cinque anni fa questo, questa serie è una serie di cinque anni fa Video uncut, serie su Minecraft, Stepney che fa cazzone e che non si capisce un cacchio quando parla Io intanto me ne vado nel Void, allora ragazzi, abbiamo già creato la scaletta, siamo pronti, siamo carichi e siamo, l'ho già detto pronti, si l'ho già detto ma lo gli dico, siamo pronti ad andare a cercare una fortezza E l'uovo, in realtà, attento, non so perché ma c'è un enderman che ce l'ha con te, ma perché? Veloce, veloce, ma ce l'hai l'enderman per entrare? Sì, sì, sì Ok, veloce, veloce, c'è l'enderman indietro, colpisci, girati, girati e colpiscilo, girati e colpiscilo, ora sono due, non so perché Aiuto, ora sono due, no, 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 zio, non morire, zio, non morire Ti ho detto girati e colpiscilo Cosa, io lo colpisco, ti ricordo che fa tre danni a colpo Eh, lo so, ma se vai su una scala che è sul vuoto, che ti aspetti? Che non riesca a salire velocemente quanto salgo io? Eh, ma lui c'ha le braccia lunghe, ti colpisci anche al lato Le braccia lunghe C'ha le braccia lunghe, sai che mi sa che hai perso un po' di roba Sì, tutto il mio inventario, vado a prendere quello che c'è Ah, no, 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 è caduto qua sotto Poi mi ammazzo È caduto qua sotto, scherzavo, è tutto qui, è tutto qui Guarda, ti faccio già la scaletta così puoi andare a prenderlo Comunque, stavo dicendo, questo video sarà un po' complicato da fare Non solo perché Stefano è appena morto e dovrà prendere tutta la sua roba Ma anche perché nel void, non so se avete presente È tutta una questione di fare dei... o abbiamo tipo un culo incredibile e la troviamo subito Ma ho i miei dubbi a riguardo O dovremo fare tipo una marea di ponti per arrivare dove dobbiamo andare Cioè la fortezza E spero anche di riuscire a trovare subito Guarda, ti ho fatto la scaletta, vieni di qua Grazie, arrivo subito Proprio dietro di te Speriamo di trovare subito una fortezza che abbia all'interno anche la nave Perché senza nave non possiamo trovare la testa di Drago e l'Elytra Che sono le due cose che simboleggiano il fatto di aver finito questa serie Allora, qui abbiamo il tutto Entriamo Ci siamo Ci sono anch'io, eh Ok, siamo pronti Dopo un po' di peripezie Eccoci Ok, allora l'Ener per le levo da qui Ora, come sapete, sono punti su punti potenzialmente Io qua non vedo fortezze vicino a noi Quindi mi preparo già psicologicamente a dover craftare tanti ponti Oh, ma perché c'erano con te? Girati colpicilo, colpicilo, colpicilo Con la spada Non guardare in giro però Orca vacca, ora muoio anch'io No, ora muoio anch'io Ok, è morto Ma se tu guardi verso l'alto è ovvio che poi Non è vero, ti ho guardato dopo Ti ho ammazzato dopo Dai, ti aspetto Ce l'hai l'Ender Pearl, no? No, non ce l'ho adesso l'Ender Pearl Allora, devi fare, devi fare Io te vengo indietro Ti vengo a prendere Ti porto un Ender Pearl Non prendo tu la metà Se non ce l'ho poi si mischia tutto Non so, guarda, non so Un po' di Ender Pearl e torno indietro Cioè io sono sicuro che con il mouse Te vai a fangula Già non si capisce nulla Se fai pure i versi Sembra un video Sto aspettando E sta cosa sta aspettando? Che torni indietro, giusto? Eh, bello Comodo così Che a me non mi colpiscono Cos'è? Sto più simpatico? Può darsi Non lo so Non lo so Vabbè, torniamo indietro Tanto vorrei una zucca Però non c'è Allora, dove si va? Allora, dietro non vedo isolette Ah, ce n'è una di fronte a noi Io direi Andiamo avanti Ok, un po' di Ender Pearl Allora, io le Ender Pearl non le userei Per andare da una zona all'altra Perché non abbiamo Che non ci arriviamo No, no, arrivarci ci arriviamo Sono abbastanza sicuro Il problema è che poi moriamo Un casino Poi bisogna anche tornare indietro Non abbiamo armature Allora, io sto andando È un po' problematico Con l'Ender Pearl? No, no, a corsa A corsa E io ho già trovato il primo ponte da fare Lo sto costruendo Che in realtà nel void è sempre tutto così Non è che c'è molto Da girarci intorno Ah, l'ho visto anche io con l'isoletta Sono ponti, su ponti Eh, accanto non c'è nulla Quindi io andrei avanti Andrei dritto E speriamo di trovare una fortezza Ma non solo Speriamo di trovare una fortezza Con la nave Senza nave Siamo un po' Dai, dai, dai Forza Eh, forza, forza Ho già finito Primo stacchettino Via Non spam mai le Ender Pearl Sì, guarda che mi muori poi Poi devo tornare indietro Per venirti a prendere Non si muore di me Diventare odissea Sto video Tieni la visuale bassa Mi raccomando Sto guardando per terra Guarda per terra Dove stai andando? Salto e guardo per terra Eh, verso la fine dell'isola Per fare altri punti Hai ragione C'è solo questa Però di qua Oh, no, no Di qua è più vicino Dove? Si può fare Di qua Andiamo di qua Facciamo un ponte di lì E andiamo in quella l'asse a sinistra Va bene Ok Eh, ti dirò Ci sono stati momenti più interessanti In questa serie Che non quello in cui Bisogna fare ponti su ponti E poi comparirà una fortezza, no? Si spera Ti dico Ci sono state C'è stata una live In cui dico Sono rimasto Ma hai fatto cagà addosso Ti ricordo che non abbiamo il cibo infinito Poi se finisci il cibo Bisogna mangiare i chorus fruit E ti trasportano in giro dappertutto Io ho 30 patate E io ho 23 Però comunque non sono tante Comunque se ti colpisce un enderman Piuttosto che panicare Vai al muro più vicino E costruisci una cosa alta Due blocchi Un po' larga E nasconditici sotto Lo so Così non ti possono colpire Il problema è che mentre la costruisci Continuano a colpirti Eh sì Infatti deve essere veloce Deve essere pratico Delle costruzioni Non è molto Non è molto easy Però come diventi bravo A costruire sul fortnite Puoi diventare bravo A costruire anche qui Allora Io ti vedo già Che vai contro gli enderman Mi viene proprio il cagotto Non vado contro gli enderman Ok Allora accanto ragazzi Purtroppo sono solo isolette piccoline Quindi continuiamo Ad andare avanti In che direzione stiamo andando ora? Non lo so Est Non lo so Andiamo di qua Tu prosegui Un altro ponticello Dovano collegate tutte queste isole Prima o poi No Facciamo solo un ponte Non spieghiamo blocchi Ok Fozza Eh fozza Bello Il tempo scorre Questo è un processo Che c'è in tutte le serie di minecraft La vita è una sola Fozza Eh fozza Però io ho capito perché ci vuole così tanto trovare l'elitra Perché l'elitra è overpowered Cioè dopo che hai trovato l'elitra Potenzialmente Si è apposto con i trasporti Ci metti sopra il mending E vai avanti all'infinito Eh Dove andiamo? Sinistra o destra? Sinistra Andiamo a sinistra Davanti Ma solo è destra Si Ma Non lo so Do di cappelle Dici bene Guarda guarda c'è un'altra isola Vieni 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 A posto A posto Andiamo alle coordinate 888 Davvero? Sì Ce l'ho chiuso le coordinate Va bene Quindi Niente bisogna andare Ah stai già facendo tu Perfetto Vieni 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 Sto arrivando Ma se ti può mangiassi un charus fruit Questo non è Non è Fortezza 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 Dietro di te Eh zio Allora Non mi sembra molto costruita bene In realtà Cioè è un po' Alpezione Oddio ma è enorme Però aspetta Finché non vediamo Una nave Siamo un po' Nella merda Vieni vieni L'episodio finisce Quando troviamo l'elytra E la testa di drago Ma una domanda L'elytra ce n'è una sola Chi la prende? Ma è indifferente Tanto ho finito la serie Ah si C'è anche la nave Eschgere Guarda Vai lì Vai 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 Va bene Vai ho disparito Va bene L'importante è che non guardi gli enderman Stai attento agli shulker Non gli andare proprio In faccia Se no poi ti sparano le cose addosso E muori Ok Bisogna fermare un ponticello qua Ma se facessimo un pillarone da qua? Un pillarone per andare direttamente Lassopra? Sì Non so se abbiamo abbastanza blocchi Ti dirò la verità Non ci prende nessuno Ma che vuol dire? Bisogna ammazzare gli shulker Per arrivare là sopra Vedi che c'è proprio il ponticello Lì accanto Se zoomi Dietro la nave C'è proprio quella roba da lì Dalla fortezza Quindi bisogna salire Prendere la prima a destra E sta facendo una scala La prima a destra? La prima a destra? Che cosa sei? Un gps? Eh sì più o meno Ah è vero che non ci servono gli shulker Però Ma non abbiamo abbastanza blocchi Ti ricordo Che quando tu Raggiungi un certo livello Gli shulker sulla nave Iniziano a spararti Non solo Ci sono gli shulker Anche sui lati Delle fortezze Ho le enderpearl Per sfuggire a loro Eh dove la lanci le enderpearl? Dove la lanci? Ok Allora io inizierei a fare Più devi fare una scala così A sto punto Se mi fai una scala Vai la tua sinistra Iniziamo a fare una cosa tipo Al labirinto A chiocciola Così riusciamo a salire di più Esatto Perché è così tanti materiali Non ce l'ho mica? Eh Sai che neanch'io? Infatti Vediamo Ci fermiamo a metà probabilmente Lo sai vero? No 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 Ce la si fa Ma fai una scaletta vera Esatto Stiamo attenti a non morire Io c'ho una paura fottuta Di stare sopra il vuoto E tu giustamente vieni qui Vieni vieni bello E ringrazia che nell'end Non ci sono draghi Ghast E cose varie Ci mancherebbe solo un drago Anche nel void poi Ehi magari il fratello Arriva il fratello E magari metteranno un giorno Vieni vieni bello Ho sbagliato Ho sbagliato Eh ho capito Io poi come cacchio faccio Cerca di recuperare qualche blocco extra Che metto Perché altrimenti andiamo Da nessuna parte qui No io ce ne ho un po' di blocchi 57 ancora E soprattutto Stai attento con la netherrack Perché c'è il vuoto sotto E la netherrack è fragilissima Sì l'importante è non prendere un piccolo Ma vuoi scavare un blocco sotto Per favore Così non devo scavare tutto io Che vuol dire? Eh perché hai scavato Hai messo un blocco in più Una certa Ed è tutto sballato Eh basta che fai uno in più E poi è regolare Eh no perché poi bisogna farlo fino alla fine Poi bisogna anche scendere in qualche modo L'elita ce n'è solo una Ma scusa Non basta che Che stai facendo? Ok ora ci siamo Siamo quasi Ci siamo quasi? Sì Domani Facciamo la super scala della morte Fatica Ma cosa si deve fare per evitare la fortezza E andare dritto nella nave? Ma se tu che vuoi evitare la fortezza E' abbastanza semplice Ti dirò Basta ammazzarli con l'arco da lontano Gli shulker Ho questione di timing E precisione Ok no ora aspetta Fermo qui Fermo assolutamente qui Perché ci sono degli shulker Fuori dalla nave Se ti spara e ti colpisce Sei nella merda Eh no Ancora che piazzi male Se ti colpisce e flutui Frutti per pochi secondi Poi cadi nel vuoto Bello E dove la lanci? Nella piattaforma Prima di crepare dal vuoto Aspetta aspetta Lo vedo lo vedo lì Gli sparo Gli sparo Fermo Lì accanto Gira ti e colpiscilo Gira ti Ti ha sparato Ti ha sparato Mamma mia L'ho rotto io L'ho rotto io Ammazza subito gli shulker Ammazza subito E' qui lo shulker E' qui E' qui E' qui No 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 Lo schioppo lo schioppo è morto è morto Ti sto aspettando dentro E' tutto al sicuro Muori Muori Oddio scappa 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 E' qua sopra E' non male Non male C'è un po' di robetta Si? Cosa c'è? Poi andiamo a uccidere Ah armatura Che bello Piglia piglia l'armatura Piglia tutto Piglia piglia Il piccone con efficiency di lusso Allora Signore e signori Ecco qui l'elitra Ora però Prima di andare via Dobbiamo anche Uccidere effettivamente Ho sentito un enderman Perché ho sentito un enderman? Rischio Stai prima Mangia i ciorus E mori un po' Ok morto Shulker shell Per noi No 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 zio Ma stai fermo Doviamo appena con la testa di drago Porca vacca Perché gli faccio E di qua Bisogna fare una cosa Molto Di precisione Così Vai 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 E si raccoglie Creando una piccola piattaforma Non la perdo Non la perdo E No E Ci siamo Perfetto Quindi lanciamo un ender Sulla fortezza? Cioè sulla Sulla piattaforma Sei sicuro? Vuoi farlo? Vuoi morire? Io ci avrei anche le litre in realtà Quindi ti lascio qui No era pari o dispari Bello E va bene Facciamo pari o dispari E come facciamo a fare i pari o dispari? E vengo in camera tua E vieni di qua Vediamo Al meglio di tre Alla prima Alla prima? Alla prima Eh no ma il pari o dispari è una cosa mentale E che vuol dire? Tre chiodi Tre chiodi Quindi chi arriva prima a tre Vince Non chi fa il meglio di tre Vai pari o dispari? Pari Dispari Buttiamo Le giù Quattro e uno cinque Dispari Buttiamo Le giù Tre Dispari Ho vinto io Bello È due Che arriva prima a tre Ho anche specificato che arriva prima a tre Vai Buttiamo Le giù Buttiamo Le giù Buttiamo Le giù Yes Io volo via Che cazzo vuoi Ce l'ho io Eh sì No Perché non ce l'ho? Mi è volata via Tieni Tieni Stai calmo Tieni È lì È lì È lì Ma che ti butti nel vuoto Facciamo così E ora devi Dove sei? Pensavo ti fossi lanciato davvero E ora buttati Buttati Bisogna tornare a casa Io lancio un ender per lei Ok Ho lanciato un ender per il rimasto Sono lanciata No Sio Ok Sono a terra Buttati Premi 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 Zio Premi Vai Si torna a casa ragazzi Abbiamo Eh con il portale Bisogna tornare all'inizio Aspera La testa di dracocce l'ha C'hai tu? No Ha caduto nel vuoto? Dove è la testa di drago Niente testa Niente uovo Ma no ma scusa L'ho rotto L'ho rotto È uscito Per forza Ma io ragazzi Questa serie Non ho parole Signore Signore e signori Guarda io sarei anche Mezzo tentato di chiuderla Direttamente qui Perché sono abbastanza sicuro Che sia caduta nel vuoto Cioè Come è possibile No ma io Sicuro di averla raccolta Ah Mannaggia Mi hai fatto Mi hai fatto cagare addosso Guarda ora me la metto addosso Guarda quanto bello sono Uccide attaccatelo Ma cosa attaccatelo Enderman attaccatelo Sono bello e bravo Signore e signori Noi ora torniamo a casa Anche se la casa Non ci servirà più Perché questa serie Finisce qui Voglio ringraziare tantissimo Stefanino Per aver partecipato A questa serie delle sette Magari in futuro Ce ne saranno altre Però Sì Come Magari In futuro Ho detto Due Ho detto Magari in futuro Voi per essere sicuro Che Sei caduto nel vuoto Ti ho visto Ti ho visto Sei caduto nel vuoto Non dimmi che hai perso le litre Dove sei? Dove sei? Sono davanti a te Ti ho visto proprio cadere nel vuoto Ho detto Eccola Finita Perché avevo lanciato un ender Per prima Tutto calcolato Va bene Signore e signori Per questo video È tutto Noi vi salutiamo Ci vediamo Prossimamente sul canale Con altri video Anche insieme agli altri mates Noi vi si saluta Ciao a tutti Tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.